Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La storia dei lavoratori Questa occasione, l'unica che poi ha potuto ottenere, fu proprio il concorso per la sala del consiglio della provincia di Parma Il cui concorso fu indetto nel 1953 e Pizzinatto lo vinse avendo come obbligo di raccontare sia una scena di vita urbana e industriale in questo caso fu il cantiere, la costruzione di un ponte, e sia la vita agricola rappresentata con la trebbiatura e due aspetti economici più importanti della provincia di Parma. A questo si aggiunge la parete della Presidenza con lo stemma di Parma e due importanti rappresentazioni, le barricate di Parma del 22, dove il quartiere di Oltotorrente si ribellò alle milizie fasciste di Italo Balbi riuscendo a sconfiggere e a farli uscire dalla città, e l'Ecidio di Bosco, dove invece si racconta un momento triste della Resistenza quando i nazisti accerchiarono il gruppo dirigente locale e vennero uccisi sette partigiani. In questo modo Armando da una parte esalta il lavoro collettivo teso a un bene comune e dall'altra fonda le radici dell'Italia repubblicana nella Resistenza e nei valori risorgimentali. Gli affreschi di Parma furono inaugurati il 13 ottobre del 1956. L'invasione dell'Ungheria da parte dell'Unione Sovietica al 1 novembre interruppe o spezzò il sogno di molti comunisti. Lo stesso partito ripensò tutta la sua linea culturale e uno dei primi avvenimenti fu la cessazione del sostegno al movimento realista. Pizzinato si trovò a dipingere in solitudine. Un'altra occasione che però non poteva essere realizzata fu un concorso per un soffitto per il liceo tecnico Barozzi di Modena che Armando vinse a Ezequo con tre cani e rossi nel 1959. Qui abbiamo dei bozzetti. La prima idea e la seconda per la seconda prova del concorso dove immagina un procedimento tipico dell'arte barocca, uno sfondamento del cielo. Immagina un grande cantiere in costruzione con al centro un'impalcatura dove sotto il sole radioso dell'Avenire doveva essere collocato il gruppo degli operai sull'impalcatura. di cui qui vediamo il bozzetto. Purtroppo il concorso venne annullato dal prefetto e il soffitto non poteva mai essere realizzato ma Armando, fedele ai suoi principi in difesa dei lavoratori, crea un grande ciclo di opere di dimensioni notevoli dove ripropone i temi dei lavori più umili. Ciclo che poi la morte di sua moglie interrompe. Il fronte nuovo delle arti è stato il movimento più importante dell'immediato dopoguerra. Nato a Venezia il primo ottobre del 1946 ha raccolto una decina di artisti italiani che si proponevano di riagganciare l'Italia all'Europa. I loro propositi prima che estetici erano etici morali nel senso che in qualche modo volevano continuare sul piano culturale quella che era stata la lotta per il rinnovamento durante la Resistenza. Quindi si trattava di aggiornare la cultura italiana e però anche delineare nuove prospettive per il futuro. Armando Pizzinato è stato uno tra i più determinati, tra i fondatori del fronte nuovo delle arti proprio perché sente un'esigenza profonda di rinnovamento, non solo formale ma appunto di tipo etico. E bisogna trovare, secondo lui, i modi per definire un'arte nuova per una società nuova, appunto quella che sta nascendo dopo il conflitto. Egli rielabora la lezione di Picasso, di Matisse, dei futuristi e dei costruttivisti per cercare una soluzione originale in cui colore, linea e forma geometrica trovino una loro forma organica. Le opere di Pizzinato appartenenti al periodo del fronte nuovo delle arti sono senz'altro tra le più originali, tra quelle elaborate da tutto il gruppo. Tanto è vero che Peggy Guggenheim, la famosa collezionista americana, acquisterà un'opera di Pizzinato per donarla al Museo di Arte Moderna di New York, là dove si trova ancora oggi. Il Pizzinato degli anni del fronte nuovo delle arti però non è mai stato assolutamente astratto. Nelle sue opere si può riconoscere comunque un riferimento alla realtà fin dai titoli delle opere stesse. E quindi il passaggio di Pizzinato al periodo realista in qualche modo per lui è stato un passaggio conseguente, frutto di una logica conseguenza di impegno, di impegno etico-morale per un'arte che deve comunicare a tutti. Qual è il senso politico dell'arte di un artista che deve comunicare a tutti? come Armando Pizzinato. Anzitutto verrebbe da fare riferimento alla sua diretta partecipazione ad alcuni dei grandi fatti politici e sociali della storia dell'Italia del Novecento, a partire dalla Resistenza per arrivare ai suoi rapporti prolungati e altrettanto tormentati con il maggior partito della sinistra italiana di allora, quel partito comunista con cui le dialettiche si fecero sempre più accese, soprattutto negli anni Cinquanta, nei momenti che preludevano all'abbandono da parte appunto della sinistra politica italiana del progetto di realismo artistico, in particolare pittorico, in precedenza fortemente sostenuto e che Pizzinato stesso continuò comunque a proprie spese anche sul piano del successo personale a frequentare negli anni successivi. I suoi furono quindi dei rapporti certamente non da intellettuale organico, furono rapporti di dialettica insistita, vivace, in alcuni casi quasi eterodossi, che ci fanno guardare anche ai suoi dipinti del periodo realista, più marcatamente inseriti nel contesto delle lotte operaie, della vita di fabbrica o della vita contadina. Ce li fanno osservare con uno spirito vicino a quello di un'altra tipologia di intellettuali di quel periodo rispetto a quella che riusciva pienamente a identificarsi in determinate organizzazioni politiche. E penso anche per vicinanza di tempi a personalità di fine anni 40, inizio anni 50, come per esempio Adriano Olivetti con la sua teorizzazione di una democrazia senza partiti e quindi con una visione che sembra di poter respirare anche nei dipinti di Pizzinato. Dipinti in cui il suo continuare a fare resistenza non significava necessariamente portare o far portare ai propri personaggi una bandiera di un determinato colore, ma significava anzitutto uno sforzo di chiarezza, di comunicazione onesta, di onestà intellettuale rispetto a se stesso che in effetti è rimasta assolutamente inalterata anche nei momenti problematici di ritorno dalla fase realista ad una composizione più libera, astratta, come nei giardini di Zahira del 63 che sembra quasi chiudere il cerchio con quella matrice astratta ma originariamente geometrica che aveva accompagnato i suoi esordi al tempo del fronte nuovo delle arti.